Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste Arte. Come sapete ogni tanto noi ci occupiamo in questa trasmissione non solo di quadri non solo di dipinti di opere d'arte in senso in senso stretto ma estendiamo il concetto e come in questa settimana ci occupiamo anche di persone ci occupiamo anche di personalità e in questo caso veramente credo che andiamo ad incrociare una delle personalità che a sua volta nel corso del novecento ha incrociato stanti i vari ruoli che ha che ha che ha occupato insomma ha incrociato a sua volta dicevo varie personalità del mondo della cultura stiamo parlando di Raffaello de Banfield Raffaello de Banfield nacque il 2 giugno del 1922 quindi si sono ricordati nei giorni scorsi nelle scorse settimane i cent'anni dalla nascita lo facciamo assieme ad Alessandro Gilleri che ringrazio per essere venuto nei nostri studi. Grazie Umberto sono in una versione festivaliera e rappresentiamo in fondo nella nostra presentazione le due anime di Raffaello l'anima di grande musicista internazionale di uomo estremamente formale elegante e anche anima dei grandi festival dal festival dei due mondi Spoleto Charleston per accennarne solo alcuni. Chiariamo una cosa diciamolo diciamolo subito era una era una persona di estrema eleganza di grande signorilità ma probabilmente proprio perché estremamente elegante e gran signore non faceva minimamente pesare il suo rango se vogliamo ma nemmeno la sua cultura. Io parlerei di classe di di cultura e di stile di vita. Io ho avuto la fortuna da adolescente a crescere vicino a Raffaello De Banfil papà era il suo stretto collaboratore e in quel momento magico del Teatro Verdi in cui c'era il suo intendente il mio professore quello che dopo è stato il mio professore con il quale mi sono anche laureato con una tesi di sull'agenzia teatrale sugli enti lirici il professor Gian Paolo De Ferra e grande professore di diritto commerciale grande sovraintendente presidente anche dell'ANELS sarebbe l'attuale ANFLOS l'associazione degli enti lirici per cui ci fu un momento d'oro in quel in quegli anni a Trieste momento d'oro dovuto dalla presenza di un grande personaggio della jet set musicale internazionale Raffaello De Banfil grande amico di Herbert von Karajan non del maestro Katzenberger ma di Herbert von Karajan per cui uno dei maggiori direttori d'orchestra del novecento perché forse non sanno almeno i più giovani non lo sanno ma Herbert von Karajan dopo la seconda guerra mondiale visse per diverso tempo a Trieste ospite in casa De Banfil e suonò all'inizio il violoncello nell'orchestra filarmonica triestina dove fece poi le prime direzioni d'orchestra poi visto che avevamo il governo militare alleato prese il volo andò a Londra e da Londra riprese la grande carriera però fu sempre molto legato a Raffaello tant'è che una delle opzioni di matrimonio che ebbe Raffaello De Banfil vi do questi gossip sarebbe stata la figlia e invece in Palmo la Graziella arriva bene per il matrimonio che fu il famoso matrimonio e dopo divenne per cui Raffaello patrigno dei Giberto arriva bene Gonzaga che sposò la bianca d'Aosta e il matrimonio dei matrimoni del secolo che vide Raffaello De Banfil protagonista ecco di cosa stiamo parlando stiamo parlando poi di un grande amico di Stravinsky oltre ad essere amico di tutto quel mondo musicale del novecento che va da Giancarlo Menotti a Samuel Barber e via dicendo e ricondando come sia stato molto conosciuto all'estero specie per il suo balletto Le Combà che prima o poi vorremmo riprendere Le Combà su musica di Stravinsky no? No 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 proprio musica sua Ah musica sua Musica sua Tra l'altro fu anche in grandi rapporti d'amicizia non soltanto con il cotè musicale della cultura del novecento ma per esempio anche con il cotè artistico teatrale fu amico di Tennessee Williams mi raccontò un giorno una cosa molto divertente perché dice che stava passeggiando con Tennessee Williams per New York Già questa idea no? Di passeggiavo con Tennessee Williams però quando te lo raccontava lui era di una naturalezza li vedevi che venne incontro a loro Elia Kazan e disse loro andate a vedere questa una commedia che si dà in un teatro New Yorkese state attenti al ragazzo che entra in scena all'inizio del secondo tempo Loro andarono a vedere questa commedia Il primo atto era abbastanza banale insomma niente di vita Il protagonista era Louis Jourdan tra l'altro Dice all'inizio del secondo atto entra in scena appunto questo attore giovane Di colpo tutti gli occhi degli spettatori erano concentrati su questo attore giovane che era James Dean E quindi voglio dire per dar l'idea anche di... Ma sì ad esempio adesso che abbiamo fatto anche questa mostra per onorare la memoria Sfogliando fra le varie fotografie troviamo la fotografia di Falello che incrociera con Gregory Peck Cioè e con Bartucci che era un tenore italo-americano molto famoso dell'epoca E Falello aveva 30 anni Cioè quando Falello compone Colloco col tango che praticamente fa la colonna sonora della formica di questa piesta teatrale E frequenta New York, vive a Parigi, ai carteggi con Moravia Infatti... Un balletto tratto da Agostino Agostino sì Alissa Cioè tutte le cose, non ne ha fatte tantissime ma sono di un grande spessore culturale Che denotano i suoi rapporti internazionali E infatti una delle cose che mi è... non ho avuto il tempo materiale era proprio parlare con la Dacia Maraini Che ho avuto il piacere di fare una sua produzione adesso nel mio periodo romano Per cui ci siamo frequentati E non sono riuscito a parlarle delle sue frequentazioni con Falello Perché lei stava con Moravia Ci sono dei carteggi Per cui sarà magari in una seconda fase che magari la porteremo a Trieste Palazzo Mitterculte E parlare anche di questi rapporti Perché poi Dacia aveva rapporti con Pasolini C'era tutto quel mondo là E sarebbe stato interessante Questo non l'abbiamo potuto approfondire I rapporti di Falello e Pasolini Perché ormai erano coetanei Di estrazione completamente diversa Però la Plomb, diciamo il rapporto di Pasolini con la Callas Anche se era tutta una grande montatura sostanzialmente Sì ci sarà stata un'infatuazione Il fascino di questa donna fantastica Però dagli accertamenti che ho fatto io Con le persone che sono ancora vive Che erano intime della Callas Era più una cosa diciamo Quindi va là ecco insomma Va là giornalistica Forse per mandare anche di natura più pubblicitare Che reale passione della cosa Però questo poteva essere un discorso interessante Anche da un punto di vista intellettuale Oltre che musicale e culturale Una volta io ebbi modo di parlare con De Banfield Anche della Callas E mi raccontò una cosa Che la dice lunga anche sul mondo degli artisti veri Non mi ricordo quale fosse l'opera Probabilmente la Gioconda Ma non ne sono sicuro E andò in camerino Per fargli i complimenti Perché disse fu una recita stupefacente E la trovò affranta E le disse Ma insomma come mai Perché non sarà mai più così? E dice L'idea che quest'artista in un momento di trionfo Perché fu un trionfo Era già Come dire Preoccupata di non poter più ripetere Quella performance così straordinaria Ti dà un'idea di che cosa significa essere artisti A determinati livelli Certo Poi ricordiamoci che la Callas non vedeva niente Cioè lei si muoveva Era un miombe Sì era un miombe terribile Non vedeva niente Infatti era Zeffirelli Faceva le regie per lei Ho capito Muovendola Facendola muovere Questo sono anche particolari molto interessanti Per determinare la forza e volontà di questi artisti Che pur nella miopia Nelle altre cose Dopo andava a cercare delle performance E cercava sempre la perfezione Come potremmo definire Se dovessimo appunto definire De Banfield in poche parole Perché fu un musicista Fu un grande Come dire Un grande uomo di teatro alla fine se vogliamo Sia per quanto riguarda La direzione artistica del Verdi Sia per quanto riguarda anche Spoleto Eccetera Fu un intellettuale Fu anche un grande Come dicevi tu all'inizio Fu anche un grande Uomo del Del jet set Insomma quando il termine jet set Significava qualche cosa Insomma adesso Basta poco per dire verità No? Sì Ma una volta a far parte di certi gruppi Erano davvero in pochi Insomma non è che Beh noi l'abbiamo definito un gentleman Sì che già Che si cercava una sintesi Perché in fondo Falello era Falello per tutti Per cui il suo appellativo Mi dava già una definizione Nella sua multitasking Se vogliamo dire Adesso si dovrebbe dire così Visto che siamo nel PPNR E se voleva Diciamo che era multitasking Nel senso che Partiva da una grande apertura culturale In fondo Anche come organizzatore Come ricercatore di talenti Ricordiamoci che Abbiamo cantanti Che lo stesso Michael Melbi Che dopo fu protagonista Della memorabile Vedo Vallegra Con la Raina A Spoleto Con la regina di Bolognini Che dopo si riprese Che era un giovane Di 26 anni Danese Che lui dice Che cosa mi ha mandato Sto bambino Dopo lo sentì Era un bellissimo colore Melbi Da giovane Maritonale Molto bello E poi Registi Direttori d'orchestra Che sono cresciuti Grazie alla fiducia Che gli ha dato Falello E che gli ha lanciati Pensiamo Tanti Che dire Artisti come La nostra Cedolins La Barcellona E cioè Sono passati Di tutto Anche la Mazzucato Anche la Mazzucato Per carità La Mazzucato È una creatura Che nasce anche qui Adesso stavo pensando E' Cossutta E' Le memorabili Spettacoli Di Alberto Fassini Che era uno Per raccontare a papà Che erano tutti gli assistenti A Spoleto Quando era Il mitico Lucchino Che Spoleto Era Spoleto E c'era tutta La stuola Dei assistenti E tra un altro Da Franco A quello Dopo c'erano gli ultimi Che andavano a prendere Le sigarette E tra un altro Spoleto Che cos'era Il festival Dei due mondi Di Spoleto Negli anni E beh Spoleto Era un incontro Fra la cultura Americana E la cultura Ricordiamoci Che il sindaco Di Spoleto Era un vecchio Comunista Grande uomo Intellettuale Fratello Del grande Intellettuale Storico dell'arte Professore Toscano E ma era un medico Comunista Ed eravamo Nella profonda Umbria rossa Dove Abbiamo L'inizio Delle sponsorizzazioni Abbiamo l'incontro Tra la cultura Papalina Centro italiana Con tutto quello Che significa L'Umbria Che L'Umbria Dei primi anni C'era le case Mi raccontava Papà che si togliava Sempre Di non aver mai Acquistato una casa In tanti anni Che era andato là Che non c'era Manco i servizi Dentro Io ancora ricordo Negli anni 70 Quando andavamo Invitati a cena In un casolare A pranzo In un casolare Che ci portavano Per vedere E la mia povera mamma Le disse A questa signora Questa contadina Che ci portava Meravigliosa Mangiamo una frittura Al tartufo Mitica E si Scusi signora Dove sono i servizi E portavano in sala E questo era Negli anni Nel 1970 Per cui Parlavamo Però in questo contesto In un ambiente Molto internazionale Dove Ci furono Dei grandi talenti Come Scippas Ecco Un altro talento Che abbiamo qua Scippas Badea Tutti i direttori D'orchestra Che poi venivano A dirigere Con le regie Di Giancarlo Menotti Io Opere come L'ultimo selvaggio Opere come La Santa Tribeca Street Che ormai Sono uscite Dal repertorio Tradizionale Però che rappresentano Dei passi Importanti Del teatro Del novecento E anche Della commissione Di drammaturgia E opera lirica Perché la medium Altra opera Molto importante Certo Ci vogliono Attori di spessore La tessitura Canora E la tessitura Musicale Non è Ed ispirazione Puciniana Perché abbiamo tutti Quest'anno Adesso incominciano Le celebrazioni Puciniane Eccetera Abbiamo Tutto Il filone Di questi Compositori Che seguono Diciamo Di scuola Puciniana Perché se andiamo A vedere La fanciulla Del West Abbiamo delle assonanze Con l'America Sì sì certo Torniamo Per cui Era un grande Fervore Culturale Dove Incontravi L'intelligenza Americana Molto Evoluta Dove c'era Dove c'era Un mondo Teatrale Cinematografico Che si ritrovava In questo affascinante Posto pieno di storia C'è un filmato C'è un filmato su youtube Dove si vede Proprio al festival Dei due mondi di Spoleto Quando venne Vene rappresentato In prima nazionale E credo che Fosse una recita unica Credo fosse L'amante di Harold Pinter Diretta da Visconti Che poi Non poté più Estra rappresentata Perché Pinter Non gradì Questa Versione E quindi Tolse I diritti Eccetera E C'è una Teoria Di Persone Che vanno a salutare Visconti In Credo In palco Alla fine Dello spettacolo Mette i brividi Perché Ci sono Nora Ricci La Brignone Stoppa Morelli De Sica Sordi E la Magnani Roba che In Io mi immagino Sempre questi Che saranno andati In macchina assieme Più o meno Per andare a Spoleto Si può andare solo In macchina Ma è qualcosa di Credo che Fossero appunto Momenti Particolarmente Ma negli anni 70 Io ricordo Che Fortuna Ebbe Di vedere La Morelli E Stoppa Che faceva Gingame Che è una roba Va bene Va bene Si conoscono I gusti musicali Di De Banfield Cioè Si Sai se Ammirava Un autore Piuttosto che un altro Indipendentemente Poi Da un'altra Cosa Gli autori francesi Lui Poi Mitropoulos Che quando Lo vede A Parigi Quando Per cui Falelo Poi Amava Wagner Tutto il filone tedesco Mosa Cioè Lui era Un grande pozzo Di musica Appassionato Poi ti ricordo Che era Sempre frequentatore Di Salisburgo Lui però Andava prevalentemente All'Ostern Festival Andava sempre A Pasqua E dopo ogni tanto Andava anche In autunno Però A Pasqua Dove Diciamo Il festival Aveva una dimensione Proprio più Intima Ok Più raccolta Il festival di Pasqua Era sempre Qualche cosa Di più Ricercato Meno di repertorio Lui Era fisso A Pasqua Andava Da Da Carajan Era ospite Da Carajan Però Carajan Lo fece venire Pontini E il povero Avvocato Pontini Nella memorabile Concerto Quei Berliner Che lui Purtroppo Non poteva vedere Per un attacco Di Moroidi Storia Un po' di storia A vita musicale C'è fatto anche di questo Per dire la verità Tanti sacrifici Tante cose Teatro Grande cose Benedetto caro Non potevi andare Questo è il memore Dei racconti D'Avvocato Pontini Che tutti gli spettatori Non lo sanno Forse i più giovani Ma è stato quello Che ha fondato La società dei concerti Senti De Banfield Ebbe anche Poi tra i suoi rapporti Con la Francia Sono in qualche modo Stati anche coronati Mettiamola così Dalla Tribuzione Della legione d'onore Anche in quel caso Quando la legione d'onore Anche là Adesso Voglio dire che uno E' come il sigilo La città di Trieste Che lo danno a tutti E scusa questo vizio Perché Non si nega a nessuno Ma quando c'è Siamo fuori dal municipio Bisogna schivare Perché arriva I cittili E la legione d'onore Poi gliel'ha Dei de Mitterrand Quando era ministro Lang Cioè Poi il significativo Perché Ricordiamo che De Banfi era un cattolico Era stato consigliere comunale Della democrazia cristiana Quando c'era un consiglio comunale Che c'erano Credo in quegli anni Pado Schioppa Almirante Credo anche Il buon Pannella Pannella Sì 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 Cioè E lui era uno dei Oggi si chiamerebbe Società civile Va bene? E Sedi Parliamo un po' Anche Degli ultimi anni Perché Non possiamo Non Non parlare anche Appunto Della Dell'ultimo periodo Che fu un periodo Lo sappiamo Non felice Adesso Diciamo Lo potremmo paragonare A come un missile Visto la guerra in Ucraina Che raggiunse gli apici E poi A un dato punto Parabolò Tu l'hai frequentato Anche in quel periodo Sì sì Se posso chiedere Come Come visse Quel Beh nella sua Totale innocenza Perché in fondo Era un puro Lui era un musicista Era un uomo molto sensibile Ma non era un business man Sì E si trovò Suo malgrado Visto la morte del padre Che Era un grande Era all'opposto Suo Goffri Fegataccio Al limite fra L'avventuriero E il grande capitano D'azienda Perché ricordiamo Che la Tripkovic Ebbe la sua fortuna Innanzitutto Perché veniva Da una società Di armatori Dalmati Tripkovic E Goffri Fece questo buon matrimonio Con la mamma Di Falello E si portò dietro Già un armamento Poi Fece tutti i recuperi Della guerra del Golfo E in quel periodo Ci fu un'ulteriore evoluzione E dopo si consolidava la società Con la Tripkovic Che Diciamo Aveva tutti i riborchiatori Vari business Poi a parte l'immobiliare Eccetera Ricordiamo Che il palazzo Tergesteo Era della Società Tripkovic Che aveva gli uffici All'Enaudi Per cui Tutta la cosa Faceva parte E Avevano i riborchiatori Da Trieste Ad Ancona Per cui La movimentazione Tutto l'Adriatico Io Abbia Piacere Anche di conoscere Il suo amministratore delegato Titt della Zonca Mero amico Di famiglia Amico Anche di figli Ormai Sono rimasti solo loro Se ne è andato anche lui Anche la Marisa Cioè Un pezzo di storia E lì ci furono Varie Varie Situazioni No Il Il Un momento di crisi Che travolse Tutti In fondo Anche la città Sì Sì E rientra In un momento Di una città Io ho avuto una visione Dal mio ufficio Al Teatro Verdi Quando Curavo anche Gli abbonamenti aziendali Io avevo La mappatura Della crisi economica Della città Ho capito Si dissolvevano Le banche Sparivano le banche C'erano gli accorpamenti Il loi triestino Si dissolveva Per cui da 500 abbonati Non era più niente E questo Alla fine Col senno di poi Ormai visto che Incominciamo ad averne una certa E abbiamo i capelli Non abbiamo più capelli Per fortuna Se non sarebbero tutti bianchi Con una visione In quei momenti La città Si stava spegnendo E in questo Ambito Era un'isola Felice La Tripkovic Che però Pagò Pagò alcuni errori Pagò anche i primi effetti Della globalizzazione E pagò La svalutazione Del governo Amato E tra l'altro Diciamo anche Ne abbiamo già parlato Una volta Così Smentiamo un pochettino Anche questa Questa vulgata La realizzazione Della sala Tripkovic Bisogna anche ricordare Questo Se adesso abbiamo ancora Il teatro Verdi Se abbiamo ancora Il teatro stabile Del Friuli Venezia Giulia Lo si deve Alla sala Tripkovic Non solo I nostri Ma La sala Tripkovic Cari telespettatori Cari triestine Triestine Di ogni livello E censo E di fede politica Vorrei ricordare Che fu il laboratorio Che ha permesso La realizzazione Della Arcimboldi Ah già Giusto Il restauro Del più grande Teatro d'opera Del mondo Il teatro La scala di Milano Qui La sala Tripkovic È stato Come la piccola Castelletto Fatto da Massimigliano Ho capito Prima di farse Il castello Che se l'è fatto su E Che fu il laboratorio Che venne realizzato Dal mitico Franco Ma il grande Carissimo amico Che dopo Se lo portò a Milano Il buon Fontana Attuale presidente Dell'Agis Che il modello Sara Tripkovic Venne fatto Per l'Arcimboldi Che oggi è un teatro Da duemila posti E permise Alla scala Di fare i lavori Per cui La sopravvivenza Non solo Di teatri tiestini Ma anche Del tempio Della lirica mondiale Passa per la Tripkovic Adesso abbiamo scelto Di abbatterla Va bene È il limite Della città È il limite Delle sue istituzioni Culturali Perché quando in una città Non si è in grado Di gestire Un contenitore Culturale Vuol dire Che la città Non è in grado È in crisi profonda Dopodiché C'è l'abbellimento Architettonico Benissimo Lo valuteremo Lo vedremo Speriamo che non diventi Un dormitorio Di extracomunitari Come è tuttora C'è adesso Una grande querelle Sul Vovia O non Vovia O altre cose Va bene Se c'è una visione Per i prossimi Vent'anni Della città È interessante Valutarla E prenderne Quelli che possono essere Gli sviluppi Economici Della città Che oggi Come oggi Passano Tendenzialmente Attraverso Il porto Però ecco Diciamo così La realizzazione Dobbiamo anche chiudere La realizzazione Della sala Tripkovic Non Non inferse Un colpo Alla Alla società Cioè Non c'è Ecco Molti Continuano ancora A portare avanti Questo discorso Ecco insomma Perché non sanno Di cosa si parla Venne fatto tutto Con pochissimi soldi La società Ebbe i vantaggi Fiscali Perché si trattavano Di una sponsorizzazione Certo fece Un'operazione D'immagine Seppur in un momento Di crisi Però L'operazione Viene fatta In gran parte Delle maestranze Del teatro verdi Che realizzarono Il palco Che realizzarono Gli impianti elettrici Certo non le poltrone Che vennero comprate Ci mancava quello Però Venne fatto Un'operazione Seguendo le antiche Tecniche Anche teatrali Infatti Nella sala Tripkovic C'era Un'acustica Fantastica Certo Adesso Si poteva mettere a posto Quei soldi Del recovery fund Ma si vede Che non 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 se ne è avvertita La necessità Bisogna comunque Che la Che la città Pensi A qualche cosa Per ricordare De Banfield In maniera Come dire So che voi Al Mittel Al palazzo della cultura Mittel europea Abbiamo fatto Lo portiamo avanti Abbiamo fatto Adesso abbiamo fatto Un docufilm Che auspichiamo Che venga preso Dalla RAI nazionale Stiamo in trattativa Anche con la RAI regionale Per mantenere Una documentazione storica Sulla vita di Farello E anche su una Delle sue Produzioni Questa Colloquio col tango Che Essendo nelle mie corde Non solo la lirica Ma anche la prosa Che ho trovato Adeguato E più moderno Come operazione Di contaminazione In fondo Anche lui Lui era un giovane Che affrontava Un testo teatrale In quegli anni Era di moda In monologhi Come il telefono La voce umana La voce umana Eccetera Eccetera Come diceva Carpinteri Farò cura Mi non dico niente Ma faccio Tindong Grazie allora D'Alessandro Gilleri Per essere stato con noi Se avete voglia Anche di leggere Qualche cosa Su The Banfield Credo che forse E dobbiamo ricordare C'è un interessantissimo libro Due libri Per cui diciamo Che è un'accettazione Di morte a Venezia E non ho i crini Dal biondo Del biondo Di Tazio Di Tazio Però diciamo Tazio Dopo il Bruce Castriglia Prima della Di Tazio Dopo i pedoci Ma non al pedocin Grazie Grazie Gilleri Davvero